Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro, andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri ha annunciato il Vangelo e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità, io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui. Parola del Signore. In questa terza domenica, che è la Domenica della Gioia, la Domenica Letare, cioè Rallegrati, perché si sta avvicinando la grande festa del Natale, ancora sentiamo risuonare le voci dell'Avvento Isaia e la voce soprattutto di Giovanni. Sono collegate, evidentemente, queste due voci. E come lo sentiamo vicino? Questo Giovanni, che è stato incarcerato dal re Erode, e dal carcere manda a chiedere a Gesù sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro. Giovanni è in crisi, aveva annunciato, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo di domenica scorsa, un Messia, un inviato di Dio forte, giudicante, che avrebbe schiacciato i cattivi, diciamo così, i malvagi, gli iniqui, col suo fuoco e avrebbe invece premiato, salvato i giusti e i buoni, e invece si ritrova con Gesù, che va a pranzo con i peccatori, che avvicina i peggiori, diremmo così, i pubblicani, le prostitute, gli adulti, gli adulti, eccetera, e predica la misericordia. E Giovanni va in crisi. Davvero sei tu colui che deve venire? Ma ho sbagliato, ho annunciato uno che invece non era, e Gesù dice agli inviati di Giovanni riferite ciò che udite e vedete. Ed ecco, che cosa vedevano? Sono i segni proprio preannunciati da Isaia nella prima lettura. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano ai poveri. E' annunciato il Vangelo. Sono i segni dell'epoca messianica. Sono i segni del regno di Dio che si è fatto vicino. E' beato colui che non si scandalizza di me. Cioè che non trova ostacolo in questo stile di Gesù, in questo stile di misericordia, di salvezza, di vicinanza a chi soffre. Ma Gesù non è assolutamente un rimprovero quello che fa il Battista. Perché poi nel resto del Vangelo di oggi gli fa un grandissimo elogio. Il più grande, un profeta? E' un profeta Giovanni? Sì, anzi, più che un profeta. E' il più grande. E' il più grande uomo fra i nati di donna. Ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Perché? Perché Giovanni è ancora sulla soglia. E' ancora nel tempo dell'attesa, anche se è l'ultimo dei profeti. Colui che ha indicato il Cristo. Ma non è entrato nella nuova epoca, nel nuovo inizio che è il regno di Dio inaugurato da Gesù. Ecco, però possiamo imparare tanto da Giovanni. Possiamo imparare che è possibile andare in crisi. Anche le domande, i dubbi, le fatiche fanno parte della fede. Non è facile credere in questo Gesù. E avere dubbi, avere domande, dover cercare, dover pensare, dover farsi aiutare, confrontarsi, fa parte del cammino di fede. Anzi, chi non ha dubbi diventa pericoloso, diventa fanatico, diventa integralista. Qualcuno ha detto, finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. E' comunque un gioco di parole. Perché? Perché la fede è ricerca. Perché Gesù ci spiazza sempre. Possiamo imparare da Giovanni che il ruolo, il compito di ognuno di noi è quello di indicare Gesù, non di trascinare discepoli, di fare discepoli dietro a se stessi, ma di portare le persone da Gesù. Possiamo imparare da Giovanni che, come dirà nel quarto Vangelo, lui, Gesù, deve crescere e io diminuire. Ecco, chiediamo proprio all'intercessione di Giovanni, di Giovanni Battista, che ci aiuti, ci aiuti a vedere i segni della presenza di Gesù nella nostra vita, ci aiuti a portare gli altri a Gesù e non a noi stessi.